Buongiorno a tutti, grazie per aver ricordato in tanti interventi il principale progetto di volontariato che il Turing ha. Il Turing è un'associazione di 117 anni che dal primo giorno si è basata sul volontariato, oggi sono 2800 i nostri volontari, 1000 sono volontari per il patrimonio culturale, quindi sono persone che volontariamente donano del tempo per aprire dei luoghi che altrimenti le proprietà, siano esse pubbliche o private, non avrebbero risorse umane o economiche per tenerle aperte. È un progetto di cui siamo molto orgogliosi anche perché due settimane fa abbiamo raggiunto un milione di visitatori, quindi un milione di persone da quando il progetto è iniziato sei anni fa hanno potuto visitare questi luoghi perché c'erano volontari del Turing a tenere aperti questi luoghi. Secondo me è un risultato di cittadinanza attiva, perché scusatemi questa è cittadinanza attiva, che è molto significativo in questo momento. Tornando alla domanda, volontariato giovanile all'interno del Turing, ce n'è? È ancora una nicchia? Allora noi abbiamo ragionato sul perché sono ancora così pochi i giovani dentro a una proposta di volontariato che invece incontra grande favore. A Milano quando facciamo i corsi per diventare volontari abbiamo ogni volta 100-150 presenze, quindi numeri molto significativi. E allora noi abbiamo lavorato su questo tema e abbiamo guardato ad una cosa, una cosa se volete molto semplice, lo diceva anche la dottoressa Enoch nel suo intervento, cioè noi continuiamo a guardare al volontariato secondo schemi molto classici. Il mio maestro Aldo Bonomi mi ha insegnato a guardare la società attraverso le sue trasformazioni. Accettiamo che il modello della politica sia cambiato, accettiamo che il modello dell'economia sia cambiato e vogliamo continuare a guardare al volontariato invece secondo uno schema classico. Lo diceva perfettamente prima il dottor la cagnina. Oggi se si vuole fare una proposta verso dei giovani per impegnarli nel volontariato bisogna andare verso la loro disponibilità, che è una disponibilità intermittente, non continua nel tempo. Ecco, le associazioni di volontariato si devono fare un momento di autoanalisi, cioè non possiamo continuare a dire a noi il volontario serve due giorni alla settimana dalle 17 alle 19, quando abbiamo invece tutto un mondo giovanile che dice noi siamo potenzialmente attivi, ma secondo altri canoni. Ecco, questo è l'impegno grande che devono fare le associazioni di volontariato, cioè provare a rimodulare i propri modelli di programmi secondo un pubblico che ha esigenze e disponibilità diverse. Questo è un passaggio fondamentale, perché questo vuol dire andare incontro ad un pubblico, un pubblico tra l'altro enorme. Anche perché, e qua mi vorrei riallacciare un attimo a diversi interventi che ci sono stati prima, il volontario giovane è un volontario che ha, prima cosa, solitamente una cultura di base elevata, quindi ha delle skill, definiamoli così, importanti. Molto spesso conosce bene l'argomento che andrà a trattare, molto spesso conosce le lingue. Noi siamo una grande associazione di turismo e questo è un fattore determinante per noi. Quindi il giovane volontario va a cercare occasioni di professionalizzazione. Noi nel 10% di giovani volontari che abbiamo all'interno dell'intero programma aperti per voi, quindi mille volontari, vuol dire abbiamo 100 giovani all'incirca, di questi 100 oltre il 70% sono ragazzi che stanno studiando beni culturali, scienze del turismo. Perché? Ma è logico, loro stanno prendendo da questa loro esperienza di volontariato elementi di una professione futura. Questo è lo scambio alla base di un modello di volontariato moderno. E permettetemi invece di fare un piccolo inciso, dobbiamo tornare a una cultura anche del dono del volontariato. Questo scambio, mi dai del tempo, io ti professionalizzo, è giustissimo, perfetto. Quello su cui io invece vorrei insistere è un volontariato fatto attraverso i crediti formativi o fatto attraverso il servizio civile di volontariato. Questo non è volontariato. Questo è una logica da mondo adulto, da mondo del lavoro, in cui tu mi dai qualcosa, il tuo tempo e io do una remunerazione, ti do un credito, ti do addirittura dei soldi. Questo non è volontariato, cioè la cultura del dono in questo non c'è. E qua siamo responsabili noi, noi associazioni, noi istituzioni che invece abbiamo un po' creato questo mondo. Dobbiamo invece capire di tornare alla cultura del dono modernizzandolo, cioè dando ai ragazzi delle occasioni di professionalizzazione, che è un elemento invece fondamentale. Perché sennò si arriva al paradosso, si arriva al paradosso per cui il servizio civile diventa ammortizzatore sociale in certe parti del paese. Che non c'è più purtroppo il servizio civile. Esattamente. Diventava. Ma questo è un problema gravissimo. Anche perché tra le altre cose non si può più fare neanche molta programmazione. Però questo è un elemento. Andando a chiudere, io vorrei portarvi un'esperienza, forse l'esperienza più interessante che abbiamo visto negli ultimi mesi su un tema di volontariato giovanile, di volontariato in realtà to cure. Ed è un contest internazionale lanciato dal WWF con la Sony. Hanno lanciato a livello mondiale un contest dicendo a tutti dateci delle idee per unire la tecnologia ai bisogni sociali. E noi, Sony con WWF, svilupperemo insieme ai promotori quest'idea. Ha vinto l'idea di un francese, di un ragazzo francese, che ha risposto praticamente ad alcune delle domande che ci ponevamo noi. Cioè, c'è una disponibilità intermittente nel tempo per fare volontariato, questo ragazzo cosa ha fatto? Creiamo un'app, naturalmente che va solo sui cellulari della Sony, per adesso, speriamo, in cui io che sono iscritto a questa app, quindi io potenziale volontario, vedo tutte le iniziative di potenziale volontariato che stanno accadendo in quel giorno accanto a me. Questo è, immaginate, una chiave potentissima. Vuol dire che io avrò un volontario che magari farà tanto volontariato, magari lo farà tutte le settimane, magari però lo farà con tante associazioni diverse, andando di volta in volta ad incontrare, ad offrire la propria opera rispetto a un desiderio, a un bisogno che ha. Questo è un modo moderno ed intelligente di rispondere a un'esigenza di trovare volontari. Probabilmente non sarà un volontariato complesso, cioè non potremo ogni volta prendere questo volontario, formarlo e poi mandare a fare l'azione di volontariato, ma è una chiave secondo noi estremamente interessante, anche perché il volontariato deve tornare a dare valori da una parte, dall'altra parte a dare anche entusiasmo. Cioè il volontariato è vincente, quindi diventa un canale per raccogliere, per accogliere persone quando si fanno delle proposte che l'individuo si entusiasma a fare. Lo diceva prima anche il dottore, cioè i giovani ci chiedono anche esperienze per diventare gruppo, per fare gruppo. Provate a guardare una, secondo me, delle iniziative più belle che si fa, che è Puliamo il mondo di Legambiente. In un giorno, quindi non mi chiedete un impegno continuativo nel tempo. Un giorno all'anno, due giorni all'anno, riuniamoci per pulire che cosa? Un pezzo della mia comunità, il mio parco, i miei giardini pubblici. Quelle iniziative hanno sempre grandissimo successo. Cosa abbiamo? Tempo limitato, grande capacità di fare gruppo, vado a farlo con i miei amici. Terza cosa, che è importante e non possiamo sottrarci neanche a questo, grande capacità di comunicare l'evento. Questa è la terza gamba di un volontariato moderno. Noi associazioni di volontariato dobbiamo sforzarci di usare al meglio gli strumenti che ci sono per comunicare il volontariato. Non abbiamo le risorse per remunerare il volontario, ma una parte della remunerazione è anche far sentire quella persona importante per quello che ha fatto. Queste, secondo noi, sono le tre gambe su cui si va a costruire un volontariato giovanile moderno. Grazie mille.